La questione dei cambiamenti climatici e la conferenza COP21 in corso a Parigi. Sono stati alcuni dei temi al centro dei colloqui tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica delle Filippine. Nel corso dell'incontro, rende noto la Sala Stampa Vaticana, ci si è soffermati sul dialogo tra le diverse componenti della società filippina, nonché sul contributo della Chiesa Cattolica alla vita del Paese. Particolare riferimento è stato fatto al processo di pace a Mindanao, con l'auspicio che l'impegno delle parti possa garantire una pace stabile e duratura per quella regione.